Penso che sia il frutto marcio di un sistema economico in cui volontariamente ci siamo messi e di cui il PD è al fiere principale, vale a dire la gara al ribasso dei salari. Il sistema dell'euro, piaccia o non piaccia, porta che in tutta Italia l'unico strumento per diventare competitivi, questa unica cosa che viene cercata da destra a sinistra, da sopra e da sotto, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, è la compressione del salario. Tutte le iniziative del governo Renzi, dal Job Act, sono mirate a rendere facile la compressione del salario per essere competitivi, ma mi spiace, è una strada che porta alla distruzione, è una strada che porta alla fine, basta capirlo e soprattutto basta stupirsi che questa politica contro il lavoro e contro i lavoratori sia portata avanti da un partito di sinistra.